Ciao, io sono Emanuele, ho 19 anni ed è da quasi tre anni che frequento questa palestra. Quando ho iniziato il mio percorso ero sovrappeso e pesavo all'incirca 115-120 kg. Con questi tre anni in cui ho passato qui la mia esperienza ho perso all'incirca 30-35 kg e questo mi ha aiutato a crescere come persona, ha modificato totalmente la mia vita e adesso per me è un piacere fare sport, non è più un dovere, nessuno lo deve prendere in questo senso.